Un commento al mercato fiorentina? Le ultime vicende mi sembrano molto interessanti, già era un mercato utile con l'arrivo di giocatori di qualità, la conferma di giocatori come Nico Gonzalez e altri e adesso questa operazione che porta Maxime Lopez che è comunque un giocatore tra le linee che garantisce fantasia e l'uscita di Amarabac era un equivoco, rischiava di diventare un equivoco, queste cifre conferma. Credo che manchi un centrale di lettura nella difesa, però non si può avere tutto, il passaggio del turno in Conference League e quindi nel gironi permette di lavorare con più calma, mi sembra una squadra, la Fiorentina è una delle squadre che può diventare sorpresa del campionato. perfetto, grazie mille.